L'amore suggerisce cose pazzesche, è vero, è proprio così, anche voi siete qui. Siete qui per fare una cosa importante Stefano e Alessia, quando il cuore è coinvolto in maniera piena siete disposti a tutto, è così, è proprio così, tutto quello che c'è nei vostri cuori, tutto ciò che vi porta l'uno verso l'altro possa essere davvero realizzato per voi. Dopo 15 anni ce l'abbiamo fatta, quindi, è perché è lui, è lui e Stefano, quindi lo dovevo sposare. Un disastro però è lui, quando dice lui è lui, dopo 15 anni evidentemente se stiamo insieme. Felice, divertente, divento simpatica quindi, quando non mi fa incapolare però. Odio che è sbadato da morire, che mi fa impazzire, che è sempre positivo, ride sempre e mi mette allegria. Ho detto che aveva l'ansia, ero emozionato, stranamente. Per me è libertà, nei limiti ovviamente però, libertà di essere se stessi, sempre, anche quando si è insieme, di essere se stessi. Forse ti amo, è che comunque sono fiera di lui. Non glielo dico molto spesso. Che è lui, lui com'è? Quello che ha realizzato, quello che cerca di fare. Che sono felice. Che sono felice. Che sono felice. Che sono felice. Grazie a tutti Grazie a tutti